Nell'ordinanza provinciale a firma del dirigente Domenico Ranesi, la numero 195 del 12 novembre è stato istituito il senso unico alternato regolato da lanterne semaforiche dal chilometro 3 più 800 al chilometro 4 più 200 dell'SP 135 rigadente nel comune di Battipaglia. Il provvedimento avrà valenza dalle ore 7.30 alle ore 17 eccetto il sabato e la domenica dal 19 novembre al 10 dicembre 2018. Il provvedimento è stato inviato alla prefettura di Salerno, ai vigili del fuoco di Salerno, al comune di Battipaglia, alla polizia stradale di Eboli, al 118 di Salerno, ai carabinieri di Battipaglia, a servizio protezione civile, a servizio trasporti, alla polizia provinciale, all'ufficio dell'albopretore dell'ente, al geometra Guglielmo Somma.